In descrizione trovate il link a Distant Gaming, un sito dove potete acquistare giochi, abbonamenti e DLC con grandi sconti per tutte le console e PC, in modo facile, veloce e sicuro. In una stazione ferroviaria del Giappone, precisamente a Motsusu, sono apparse due misteriose statue raffiguranti i Pokémon leggendari dei titoli di quarta generazione, Dialga e Palkia, usciti sul Nintendo DS in Europa nel 2007. Indizi sul remake di Pokémon Diamante e Perla? Questo curioso evento viene alla luce grazie a un fan che ha postato la foto delle statue su Twitter, il 13 novembre. Al momento non conosciamo molto a riguardo di queste statue di Dialga e Palkia, che sia un evento dedicato alla regione di Sinnoh, oppure qualche indizio sui famigerati remake di Pokémon Diamante e Perla. Ecco il tweet dell'utente DanseTaka1230 con le foto delle due statue. L'utente ha anche verificato, tramite Pokémon GO, se il tutto fosse stato preparato per un evento del titolo Niantic, ma senza risultati. Che sia giunto il momento tanto atteso per poter esclamare con gioia, Sinnoh Confirmed? Come già tutti saprete da qualche settimana, la distribuzione del Pokémon misterioso Zerud in Pokémon Spade Scudo è arrivata anche da noi in Italia, grazie a dei codici speciali dati in donno nei negozi GameStop Zing. Il Pokémon come sappiamo da molto sarà la mascotte del prossimo film Pokémon dal titolo, Pokémon i segreti della giungla. Proprio per questo, assieme alla distribuzione di questo Pokémon, sarà ottenibile un nuovo berretto appartenente ad Ash che farà la sua comparsa proprio in questa pellicola. L'ottenimento del Cappellino Avventura non è però unita al codice per ottenere Zerud, ciò significa che non ci basterà ricevere il dono segreto per ottenere il copricapo, ma dovremmo allungare leggermente il processo. Dovremmo infatti recarci alla stazione dell'Isola Solitaria dell'Armatura, il primo luogo che visitiamo nella prima parte del DLC di Pokémon Spade Scudo, e raggiunti questa locazione dovremmo parlare con la scienziata presente mentre teniamo uno Zerud in squadra. Lei ci consegnerà quindi il Cappellino Avventura e potremo indossarlo per mostrare a tutti che abbiamo ottenuto il rarissimo Pokémon scimmialigna. Il grande evento che è in servo per noi Niantic riguardo un trio amato da tanti allenatori Pokémon intitolato Leggende dei Laghi inizierà il prossimo 24 novembre alle ore 22, per poi finire il seguente 30 novembre alle ore 22. Infatti porterà tante novità tra cui il ritorno del cosiddetto Trio dei Laghi, composto da Hazelf, Mesprit e Uxxi. Questi tre Pokémon di tipo Psico appariranno durante tutto il periodo dell'evento nei raid 5 stelle. A seconda da dove voi siete nel mondo, troverete un membro diverso di questo gruppo di Pokémon leggendari nei raid in questione. Hazelf sarà disponibile per gli allenatori in America e Groenlandia, Mesprit per quelli in Europa, Africa ed India, mentre gli utenti che si trovano in Asia Pacifica ed Australia potranno ottenere Uxxi. Inoltre avrete la possibilità di trovare una serie di Pokémon con molta più probabilità durante quest'occasione. I seguenti Pokémon insieme a tanti altri potranno quindi essere attratti dalla Roma, schiudere delle uova e apparire con più frequenza come Pokémon selvatici. Psyduck, Goldin, Magikarp, Sarskid, Stardy, Bidoof, Shellos, Abra, Machop e Ralts. Uno di questi, Goldin, sarà ottenibile dalle uova da 5 km ed avrete la possibilità di trovare un esemplare cromatico del Pokémon in questione tutto vostro. Per quanto riguarda le missioni ci saranno nuove ricompense per le missioni di mappatura AR e ci sarà una nuova ricerca sul campo disponibile soltanto nel periodo sovracitato. E voi ragazzi cosa ne pensate di queste notizie? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a condividerlo con tutti i vostri amici. Vi invito anche a passare le social che trovate in descrizione, di iscrivervi se non l'avete ancora già fatto e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Per questa piena news è tutto, vi ringrazio per essere passati, ciao allenatori! Grazie! 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 Grazie!